la priorità di questo Governo, come abbiamo avuto modo di vedere nelle prime bozze del decreto del fare. Tra gli altri indagati spicca il nome di Mauro Moretti, nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano. Moretti, attualmente amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, non ha perso il posto di lavoro e riceve circa 870 mila euro anni, per più di 70 mila euro al mese. Questo non ha impedito all'illustre imputato di licenziare Riccardo Antonini, un dipendente delle Ferrovie dello Stato, che si è permesso di prestare gratuitamente consulenza ai familiari delle vittime della strage. In questo strano Paese, se un cittadino cerca di fare la sua parte per aiutare a fare giustizia, viene ricattato il posto di lavoro. La determinazione dei familiari delle vittime ha reso possibile la nascita di una grande associazione, a tutela di tutti i familiari delle vittime, dei casi Thyssen, Moby Prince, Eternit, Linate, L'Aquila e San Giuliano di Puglia. Noi tutti ci stringiamo in un abbraccio alla cittadinanza e ai familiari, con un obiettivo comune, avere giustizia. Grazie, ha terminato il suo tempo. Ha chiesto di parlare il deputato Tofalo, ne ha facoltà. Due minuti. Grazie, Presidente. Intervengo perché nei giorni scorsi c'è stato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea per la mai risolta questione dei rifiuti in Campania. Dopo il primo deferimento del 2010 nulla è stato fatto per eliminare le discariche abusive, per bloccare il traffico dei rifiuti industriali e tossici, per impedire i roghi nelle strade della Campania. Ed ora, come un vecchio copione che si ripete, c'è il tentativo di ingannare ancora una volta l'Europa ed i cittadini campani, rilanciando la solita idea di costruire nuovi inceneritori valorizzatori, che al meglio delle previsioni entrerebbero in funzione tra cinque o sei anni, cioè all'incirca nel 2020, quando molto probabilmente, su alcune indicazioni della stessa Europa, scatterà a livello comunitario il divieto di usare tali impianti per tutto ciò che è recuperabile. Come Movimento 5 Stelle diciamo con chiarezza che questo gravissimo stato di cose, non più supportabile dai cittadini, si ripartisce equamente tra tutti coloro che hanno governato la nostra regione negli ultimi vent'anni. Gravissime sono le responsabilità dell'amministrazione Bassolino, non minori quella della giunta Caldoro attuale. Non c'è più tempo da perdere. Il conto da pagare sta per arrivare con multe salatissime al ritmo di 250 mila euro per giorno di ritardo dalla soluzione del problema. Un conto che, come sempre, ricadrà sulle spalle dei cittadini che già pagano le accise e le imposte locali più alte d'Italia, oltre che un altissimo tributo in termini di malattie e di scadente qualità della vita. Invito quindi il Governo a trovare una soluzione reale alla situazione catastrofica della Campania. Grazie. Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno nella seduta di martedì 2 luglio 2013. Ore 9, svolgimento di interpellanze e di una interrogazione. Ore 14, votazione per l'elezione di un Vicepresidente e di un Segretario di Presidenza ai sensi dell'articolo 5,8 del regolamento. Seguito della discussione del test unificato delle proposte di legge recanti delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento commessa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in merito alla diffusione in agricoltura di organismi geneticamente modificati, con particolare riferimento all'esercizio della clausola di salvaguardia. Ore 19.30. Esame e votazione della questione pregiudiziale riferita al dipendente.